È incredibile ciò che è successo a Monza, è incredibile, ma andiamo con ordine, appunto stavo registrando ma è successo l'incredibile nel mentre e quindi rieccoci qua a rifare il video. Il pareggio del Monza in estremi su Monza che in realtà non ha meritato tantissimo il pareggio, secondo me, se non l'ultimi 20 minuti che ha davvero provato in tutti i modi a pareggiarla. Ma andiamo con ordine, è un botte risposta iniziale tra Monza e Inter, l'Inter che va in vantaggio con Dalmian, Dalmian che ricordate aveva sbagliato quel gol col Napoli, abbastanza clamoroso, oggi si rifà appunto e la squadra di Inzaghi trova il vantaggio nella prima parte di gara, come spesso accade alla squadra di Inzaghi, di trovare il gol nei primi minuti del primo tempo. Zampata decisiva dell'esterno sul secondo palo, su assist di bastoni, ennesimo assist di bastoni e appunto va in vantaggio l'Inter, ma è questione di minuti, poco poco e il pareggio del Monza con Ciurria arriva con un bel mancino a giro e Acerbi un po' colpevole su questo gol qui, secondo me, e la partita prende Brio subito così. Il Monza appunto col pareggio trova il coraggio, ma colpo di testa di Petagna e tutto, ma poco dopo appunto c'è un pasticciaccio della difesa del Monza, Pablo Mari riceve il pallone da Di Gregorio, tenta di dribblare Lautaro, ma gli ruba la palla e segna a porta vuota appunto il Toro Martinez, riportando in vantaggio l'Inter, l'Inter che continua a pressare, Lautaro si libera a caccia di destra, ma appunto Di Gregorio alza sopra la traversa, il Monza subisce il colpo, si vede, è un po' scoraggiata la squadra Brianzola e subisce il gioco dell'Inter, ma finisce il primo tempo appunto con un tiro potente di Carlos Augusto, ma appunto giusto 2-1 a fine primo tempo per gli uomini di Inzaghi, che fino a quel momento hanno meritato di più, nonostante un buon Monza che aveva trovato subito il pareggio, ma poi appunto la botta del 2-1 l'ha stecchito, diciamo. Ma poi nella ripresa c'è subito Caldirola al posto di Marlon, perché vi faccio presente Caldirola tra un po' lo saprete, Caldirola tra l'altro scuola Inter da giovane, ci prova Lautaro nel secondo tempo con una punizione che finisce sulla testa appunto di Lautaro, ma la palla va alta, poi entra Aslani al posto di Cialanoglo e Lukaku al posto di Dzeko e qui, e qui, io sinceramente non l'avrei fatto, visto il Dzeko che sapete bene cosa fa. Il Monza inizia a crederci, il Monza sale di tono, prende fiducia, inizia a gestire il pallone, aumenta l'aggressibilità in fase di non possesso, ma manca il guisto finale. Guisto finale, esce Varella, poi c'è un colpo di testa di Mari, ma la traiettoria centrale è Onana, blocca, poi Lukaku libera l'area, ma appunto arriva, dopo il giallo per Gagliardini, influente, arriva l'ultimo slot di sostituzioni per l'Inter, che fa uscire Darmian e Di Marco, Di Marco che io ragazzi non lo leverai mai, perché Di Marco capisco perché Gossens non gioca, Di Marco ha un piedino, Di Marco è forte ragazzi, Di Marco è veramente un bel giocatorino e entrano Danfis e Gossens e sarà proprio, tra l'altro Acerbi fa un gol, scusate dopo ve lo dico, Acerbi fa un gol e viene annullato per fuorigioco, tra l'altro c'è anche una situazione su Acerbi su cui protesta il Monza per un presunto fallo da rigore, quello però io non l'ho visto bene, quindi non voglio dire sì, no, boh, forse starà nei prossimi ore a vedere le immagini e capire cosa è successo davvero, ma poi cosa succede? Succede che Caprari entra in campo, la mossa della disperazione per l'assalto last minute appunto del Monza che riesce appunto a trovare il pareggio con un autogol clamoroso di Danfis, per quello che vi dicevo Danfis, autogol clamoroso perché praticamente un contrasto tra Caldiroll e Danfis e il pallone carambola in rete, secondo me daranno l'autogol per gli esperti del fantacalcio appunto ad Danfis, è un Monza che resta in avanti e un colpo di testa centrale di Caldirola lasciato troppo solo in area su un calcio d'angolo rischia di fare il clamoroso 3-2 per il Monza, ci è andato veramente vicino e per questo che vi ho detto è un Monza che nel primo tempo meritava di perdere ma nel secondo tempo il Monza ci ha creduto fino alla fine e ha meritato il pareggio secondo me è un Inter che non ha saputo gestire bene il vantaggio nonostante poi il pallo di Lautaro che vi ho detto prima, Galliani alla fine è un fiume in piena, esplode di gioia appunto al pareggio del Monza con Caldirola, Caldirola che vi ricordo appunto scuola Inter esulta quindi nulla di che, bello anche qui il momento per Vialli a inizio primo tempo, ovviamente inizio match e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo clamoroso pareggio di questa partita, andate a rivedere appunto i post partita della Juve che ho fatto oggi e il video con l'ospite del Bologna, voce ai nostri rivali, molto interessante, molto carino se vi va di andarlo a vedere e guardarlo, poi ci dite la vostra nei commenti grazie a tutti quelli nuovi che si sono iscritti, grazie di cuore, come sempre vi ricordo che iscriversi al canale ti guarda prima, metti mi piace, condividi e commentare, è gratuito, è il vostro sostegno maggiore a chi crea contenuti su web, su youtube come me e altri vi abbraccio di cuore, ci vediamo domani, probabilmente per uno o due post partita dipende perché poi dopo vado a lavorare, quindi sicuramente se faccio il Napoli e vedo se riesco a fare qualcosa prima del Napoli vi abbraccio di cuore, andate a recuperare gli altri video, buon sabato sera a voi un abbraccio, il vostro Monte, fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita, ciao 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 ciao